Il management delle imprese turistiche è un corso di studi triennale che fa parte dell'offerta formativa proposta dall'Università Partenope. Il corso si pone l'obiettivo di formare i futuri manager delle organizzazioni che operano nel settore turistico, artistico e culturale. È un corso di laurea professionalizzante, ovvero un modo concreto per avvicinare gli studenti universitari al mondo del lavoro già a termine del triennio. Il corso nasce infatti in risposta a una crescente richiesta da parte delle imprese, delle organizzazioni e del settore di personale qualificato che sia dotato delle competenze manageriali necessarie per competere nell'era del web 2.0 e dei social media. Il corso si articola in due distinti percorsi, management delle imprese e delle destinazioni turistiche e management degli enti e dei beni culturali. I primi due anni prevedono un percorso comune grazie al quale lo studente avrà la possibilità di maturare competenze basilari e specifiche in ambito aziendale, economico, giuridico, matematico, statistico e linguistico. Al terzo anno invece gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra uno dei due distinti percorsi di studio, così da specializzarsi maggiormente nella direzione di organizzazioni operanti nel settore turistico o artistico-culturale. Sono sempre stato affascinato al mondo dei servizi turistici e questo corso mi ha offerto le competenze necessarie per poter lavorare nell'area manageriale del settore turistico. Iscrivendomi a questo corso di studio ho avuto la possibilità di studiare in una struttura nuova e servita, frequentando un ambiente giovane, dinamico e accogliente. Il corso di studio forma alcuni profili professionali particolarmente richiesti nel settore turistico, artistico e culturale, quale ad esempio junior manager nel campo della direzione gestione commerciale, amministrativa e contabile, esperto di marketing territoriale e turismo sostenibile, organizzatore di eventi turistici e culturali, agente di viaggio e promoter turistico nel campo dell'intermediazione turistica, heritage promoter nell'ambito del turismo culturale ed esperto di analisi ed investimenti turistici. Sebbene il corso di laurea sia professionalizzante, coloro che vorranno proseguire il percorso di studi potranno iscriversi al master di primo livello in Tourism e Hospitality Management o ad uno dei corsi di laurea magistrale attivati presso il nostro Ateneo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del servizio orientamento di Ateneo e vi auguro quindi di vederli numerosi nella nostra prestigiosa sede di Palazzo Paganoschi.